Tutto ciò che riguarda il mondo del matrimonio, dal ricevimento, alle foto, ai fiori, al viaggio indimenticabile dopo il tanto atteso sì. Tante le coppie di futuri sposini che hanno potuto farsi un'idea di ciò che troveranno nell'appuntamento con Universo Sposi, la tradizionale rassegna dedicata agli sposi che si svolgerà nel weekend del 30 novembre e primo dicembre presso il centro commerciale Le Grange. Due giorni di anteprima della rassegna infatti sono andati in scena nello scorso weekend nel centro commerciale di Piedimonte San Germano. Tantissimi espositori e questo è solo l'inizio e questo è solo l'anteprima perché è un antipasto per quello che poi ci sarà a cavallo tra novembre e dicembre con la terza edizione, la terza edizione dedicata ad Universo Sposi. Poi ci sono soprattutto tantissime novità visto che il matrimonio anche sta cambiando quindi tanti operatori del settore si stanno proponendo con delle alternative e noi ovviamente le proporremo in anteprima dando la possibilità a tutti di visitare il centro commerciale e di conoscere quelle che sono le novità legate al matrimonio. Quello dello scorso weekend comunque soltanto un assaggio della due giorni prevista tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, una edizione per la quale sono previste grandi novità rispetto agli scorsi anni. Abbiamo la possibilità anche per quest'anno di rinnovare questo appuntamento molto atteso per il matrimonio e tutto ciò che fa wedding. Abbiamo avuto durante tutto quanto il periodo di permanenza della fiera un'affluenza notevole che giustifica la nostra attenzione a questo mondo. Noi abbiamo inteso questa fiera a tutto il mondo, a 360 gradi proprio per dare la possibilità a tutti coloro che sono interessati al muovere il primo passo per il lieto vento, avere una panoramica quanto mai fornita su tutto quello che è il mondo della sposa, dall'abito all'arredamento e tutto quello che c'è in mezzo ovviamente.